Dunque, questo nuovo governo che si è insediato a novembre viene in parte da lontano, in parte nuovo e rinnovato anche in gran parte a causa del Covid. Questo assicura continuità all'opera di governo perché alcune cose ovviamente vengono continuate, ampliate, migliorate e ci saranno anche ovviamente degli spunti innovativi che riguarderanno soprattutto la comunicazione degli spazi museali al visitatore che deve in qualche modo cogliere l'essenza del Piemonte perché questo non è un museo ma è un'opera di assistenza unica al mondo, direi, nella sua costituzione che dura da più di 400 anni e che continuerà in questo senso a fare del bene. Questo luogo speriamo che diventi al più presto anche proprio all'interno di questo edificio, un luogo di accoglienza, di aiuto, di sostegno alle comunità che ci circondano, alle famiglie, ai bambini soprattutto, perché soprattutto l'ambito dell'educazione e dell'infanzia è per noi un ambito estremamente importante da coltivare. Sette anni di lavoro intenso da cui esco soddisfatto del lavoro dato, i risultati sono tangibili perché è tutto il governo che ha lavorato, ha avuto un governo molto attivo e io sono stato molto fortunato in questo senso. Abbiamo realizzato il programma che ci avevamo dato, l'abbiamo portato a compimento e questo è una grossa soddisfazione. È un programma che ha visto al centro, nella sua centralità del nostro lavoro, c'è stata l'assistenza. Questo concetto che è rimasto un po' per noi martellante giorno dopo giorno, come migliorare la nostra vicinanza ai deboli. L'abbiamo fatto valorizzando l'arte, valorizzando soprattutto il patrimonio. Nel patrimonio abbiamo messo a reddito tutto il nostro patrimonio. Quello che mi soddisfa oggi maggiormente è la certezza di lasciare questo impegno di lavoro nelle mani di una persona straordinariamente capace, efficace, sensibile, di una grande sensibilità che è l'attuale sovrintendente, la prima sovrintendente donna nei 400 e più anni di storia del Piemonte della Misericordia, Fabrizia Paternò, che certamente avrà la sensibilità di seguire quello che si è fatto, che è una traccia importante e che oggi andiamo a rappresentare con il rapporto delle nostre attività, che è una base per poi ampliare e andare oltre. Certamente devono andare oltre e fra qualche anno, quando questo governo passerà ad altro il comando dell'istituzione, leggeremo un altro rapporto che sarà, io mi auguro, più ricco di quello che ho potuto presentare io. Le sfide del futuro in chiudono? Le sfide del futuro sono sempre quelle di essere più vicini alle esigenze che cambiano, che mutano continuamente alle esigenze della gente, il lavoro. Il lavoro è la grande sfida che investe anche noi. Per me è stato sempre il motivo della massima attenzione. Io ho considerato il lavoro la vera opera, dare il lavoro alla vera opera di misericordia. Abbiamo fatto delle azioni importanti in questo senso, con giovani che oggi si sono moltiplicati, e Santa Lucella ne è un esempio. E questa dovrà essere la sfida nuova di questa istituzione. Andare sì incontro a chi ha bisogno, ma soprattutto costruire le opportunità per dare lavoro. e per presentare soprattutto il rapporto delle attività del Piemonte negli anni compresi dal 2015-2021, che per la prima volta è raccolto in un documento che oggi vi presenteremo, e che spiega quali sono state le molteplici attività e gli obiettivi raggiunti dal governo che ci ha preceduto. Dunque, il nuovo governo vede ancora in carica alcuni del precedente, e sono Nicola Caracciolo, che è governatore al culto e all'assistenza, alza la mano Nicola così, ti vedono, il governatore al patrimonio immobiliare agricolo e al patrimonio urbano, Riccardo D'Andria, e il Carlo Serzale, che è governatore agli affari legali. Come vedete, loro garantiscono la continuità del governo. Le nuove, le new entry invece sono Floriana Stevens Carignani, che è governatore alla beneficenza, il Riccardo Imperiali, che è governatore agli affari legali e agli affari legali del patrimonio immobiliare e urbano, e, per finire, Alberto Sifola, che sarà governatore al patrimonio immobiliare artistico e archivistico. Noi, come vedete, diciamo dalla composizione del governo, a cominciare da me, che già ne ho fatto parte in anni precedenti, i governi del Piemonte, questo perché così è stato strutturato e voluto dai nostri fondatori, che con grande lungimiranza hanno costruito una efficientissima macchina del bene, direi. Se pensate che il nostro statuto, da più di 400 anni, ha subito pochi... Che la gente poi venga a questo monte, noi vogliamo accogliere, siamo un'accoglienza. E qui ci insegna Papa Francesco, come la presenza sui canali sia fondamentale proprio del Piemonte. Il Piemonte è stato coordinato, come abbiamo detto, da Ludovico Soli, ma è stato seguito brillantemente. Questo governo di Sandro è per noi certezza di essere sulla strada giusta. Poi porteremo le modifiche, cambieremo tutto quello che vogliamo, però la strada è sicuramente quella giusta. Noi siamo oggi qui per presentare questo volume che, come vi ho detto, raccoglie, che è stato fortemente voluto da Sandro Pasca e che è stato realizzato attraverso la consulenza, la capacità scientifica di Ludovico Solima, in cui sono state raccolte e illustrate tutte le opere di assistenza, di beneficenza culturale svolte in questi anni e gli obiettivi raggiunti dal governo precedente. Quindi vorrei che Sandro ci raccontasse perché, come, qual è stata la necessità e come è nata questa idea di questo rapporto interessantissimo. Grazie. Grazie Fabrizio, grazie molto. E grazie ai tuoi parole affettuosissime che poi si allargono a tutto il governo. A tutti i governi. Chiaramente, perché abbiamo avuto modo in questi anni di lavorare insieme, ma nel vero senso della parola. Quindi un coinvolgimento di tutti su tutte le decisioni assunte. Il lavoro è stato tanto. Qui, in qualche modo, è indicato. La necessità di presentare questo rapporto, in effetti, nasce da un primo colloquio con il professore Solima, con Ludovico, che già anni fa ci fece rilevare come le nostre attività, tutto quanto si faceva, che lui conosceva all'interno del monte, fosse chiuso in queste stanze. In effetti, all'esterno non compariva. Questo direi che è congeniale ad un'istituzione benefica, come noi siamo, perché siamo stati sempre abituati in tutti questi anni, centinaia di anni, così si è fatto, si è lavorato, ma si è lavorato in silenzio. Oggi sicuramente le esigenze sono diverse. C'è necessità di portare fuori, di coinvolgere, di non restare chiusi all'interno, coscienti di aver fatto il proprio dovere, ma chiusi e non portando la conoscenza fuori e non coinvolgere. Noi abbiamo necessità sempre più di lavorare insieme, lavorare con altri. Questo che è lì, pervenuto a questo lavoro, non nomino tutti. È stato un lavoro collegiale, è un lavoro che è stato messo a disposizione del nuovo governo, un governo straordinario, l'avete sentito, è un governo che prende in pieno, che dà continuità alle azioni precedenti, ma che vuole innovare e che ha tutte le capacità per innovare, per le professionalità all'interno a collaborare. Quindi il compito è il sovrintendente di questa nostra straordinaria sovrintendente che ha già vissuto le esperienze del governo, ma non solo di questa, perché poi è ben collaborata. Quindi abbiamo avanti un periodo molto bello di rinnovamento, sicuramente, e già conosco, verranno enunciate da loro, e quindi questo dà tranquillità e sicurezza. Vorrei spendere una parola... ...all'Università di Reggio Nazionale, di realizzare questo stesso tipo di strumento di comunicazione. ...senza patria, quelli che non hanno ancora trovato un luogo dove poter esporre, perché le gallerie non li prendono, per i musei sono troppo giovani, a volte sono talenti che hanno bisogno... ...adesso vogliamo ascoltare... ...però non si permette di... ...lo apri dopo... ...esatto, di non aprirlo... ...lo apri dopo perché è complicato, ma vogliamo che avessi un riconoscimento, ma un ricordo, un ricordo in qualche modo di quello che è stato, la tua collaborazione che continua ancora, speriamo, per tanto tempo. Grazie moltissimo. Con noi, grazie. Dunque, quello che dicevo qui, siamo custodi di un patrimonio di bellezza e di cultura immenso, attraverso gli infiniti documenti e volumi che sono contenuti nell'archivio, e come mi ricordava l'altro giorno Pierluigi Rocco, noi siamo anche custodi di una cultura e di un'attenzione da parte di persone esigenti, volte, che cercano da noi nelle risposte in questo senso, che cercano in questo luogo anche un livello... Questo rapporto nasce da quelle che io immaginavo potessero essere due diverse esigenze di comunicazione, una verso l'esterno, ma anche una verso l'interno. Verso l'esterno mi sembrava comunque importante disporre di uno strumento che potesse rappresentare, o meglio, presentare in una maniera ordinata, in una maniera strutturata, tutte le diverse attività svolte dal Piemonte nel corso degli ultimi anni. E questa esigenza di presentazione esterna è stata già accennata, ma è molto significativa perché ovviamente il Piemonte si relaziona con una serie di soggetti e si relaziona anche con una comunità alla quale appartiene e alla quale si rivolge. E quindi, come dire, ci sono tutta una serie di soggetti con i quali il Piemonte intratiene in questo momento delle relazioni, ma ci sono tanti altri soggetti con i quali il Piemonte potrà intessere le nuove relazioni nel futuro. E allora lo strumento che possa raccontare, secondo quello che poi è anche una terminologia anglosassana, chiamata accountability, cioè dar conto delle risorse che il Piemonte ha ricevuto e di come soprattutto sono state impegnate queste risorse, questo diventa un elemento molto molto importante anche per lo sviluppo delle relazioni. Però, ecco, c'era un'altra esigenza che io ho avvertito anche in fondo da osservatore un po' interno, ma anche e soprattutto esterno, voglio dire. Cioè che, come diceva il barone Pasqua, molto spesso il Piemonte veniva identificato con il Caravaggio. Quindi, paradossalmente, il Caravaggio poneva sotto un cono d'ombra tutte le altre attività che poi invece rappresentano quello che poi è realmente il compito, la finalità di quest'ente, cioè tutte le attività di assistenza e di beneficenza. E loro un riconoscimento anche esterno, perché magari tutto questo poi altrimenti passa, come dire, sotto traccia. Il rapporto di attività è uno strumento di comunicazione molto consolidato, soprattutto a livello internazionale. Non è qualcosa che io ho inventato. Io mi occupo, insomma, principalmente di...